L'accesso al credito è sempre più difficile, la troppa burocrazia, la concorrenza estera. Sono i temi di grande attualità del convegno Trieste-Cuore della Miteleuropa, così il riparto in Economia e Imprese, organizzato oggi dalla Lega Nord Cafè San Marco. Ospiti dell'incontro, l'economista Claudio Borghi, il presidente dell'associazione spedizionieri del porto di Trieste Stefano Visentin e la vicepresidente di Confartigianato Maura Romanelli, che hanno illustrato il loro punto di vista per uscire dalla crisi e restituire alla città il ruolo di pontile della Miteleuropa. Trieste è una posizione unica, una posizione unica che dovrebbe essere un vantaggio, non dovrebbe essere uno svantaggio, come invece sembra che venga considerata per lo Stato italiano. Non riusciamo a fare delle politiche che potrebbero essere anticicliche, che potrebbero contrastare la crisi. Le soluzioni alla crisi ci sono, le hanno già utilizzate gli altri, e invece noi ci ostiniamo a fare il contrario. Maura Romanelli ha posto l'accento sulle difficoltà di accesso ai finanziamenti per i giovani che vogliono intraprendere un'attività artigiana, ma che non hanno la possibilità di fornire le garanzie richieste, fatta salva quella dei congaffi che però copre il 50% del valore della filibusione. Da qui il rischio che tanti giovani rinunciano o lasciano la città alla ricerca di situazioni più favorevoli. Per quanto sia aumentata la scolarizzazione, c'è chi dopo aver fatto il percorso scolastico dice vado a fare l'imprenditore artigiano. Noi come Confartigianato appoggiamo la voglia dei giovani, cui diamo con il nostro personale della Confartigianato supporto in tutti i sensi. Vorremmo altrettanto dalle banche. Tra le tante problematiche che frenano l'economia della città, impedendole di riassumere quel ruolo che in passato l'ha resa grande in Florida, Visentina ha evidenziato quelle specifiche del settore delle spedizioni eridoganali. Lo scopo è anche identificato dal piano della logistica nazionale, quindi dal governo nazionale, è proprio quello di cercare di eliminare i motivi che impediscono un pieno sviluppo dell'Italia e ovviamente anche di Trieste in questo senso europeo. Noi veramente auspichiamo che ci sia un cambio di mentalità e di passo anche nelle amministrazioni, e in particolare per quanto riguarda il nostro settore l'agenzia delle dogane e l'agenzia delle entrate.